Ehi tu che stai guardando questo video, non fare proprio il no skin della situazione perché lo so che vai nel negozio oggetti a scioppazzare come un matto infatti da oggi se ti va puoi supportarmi come creatore cliccando in basso a destra supporto un creatore hyper legit tutto minuscolo, tutto minuscolo e uguale una volta inserito il mio codice, clicca su accetta ed il gioco è fatto grazie mille a tutti quelli che lo faranno, vi lascio al video, buona visione bello a tutti ragazzi, prima di questo video di fortnite, continuiamo con le sfide storm research ragazzi e andiamo con un'altra sfida che ci dice visita picco polare, un vulcano e la cima di una montagna con alberi messi a cerchio oppure ragazzi se volete con un cerchio di alberi, non lo so raga perché la epic purtroppo ha fatto la deduzione un po' strana e quindi non è il dubbio, io ve le ho portate entrambe ok ragazzi quindi prima parte della sfida, visita picco polare, facilissimo raga eccoci qua picco e ora andiamo sulla cima di un vulcano ok raga eccomi al vulcano, dovete praticamente scendere proprio qua ragazzi perché comunque l'unica parte vulcanica che è rimasta del nostro appunto vulcano è questa ragazzi io vi consiglio di scendere qua in questa zona ragazzi per farvi contare la sfida io vi ricordo che comunque le sto registrando in anteprima quindi ripeto non me le conterà non le sto registrando nello stesso giorno in cui magari voi le state vedendo e quindi niente ragazzi questa è la parte vulcanica e ora andiamo nell'ultima parte nell'ultima zona dove ci dice la cima, visita la cima di una montagna con alberi messi a cerchio o con un cerchio di alberi ragazzi quindi ok raga eccoci qua per l'ultima zona prima di arrivarci raga nel frattempo che appunto gladiamo sulla zona lendiamo sulla zona come volete dirlo voi vi faccio vedere la mappa completa di cosa abbiamo visitato in una singola partita che l'ho fatto ragazzi picco polare vulcano raga su questa esatta zona mi raccomando se no non vi conta la sfida e ora ultima zona ragazzi dobbiamo andare qua eccoci qua proprio precisamente qua sopra ragazzi io ci lendo subito sopra allora eccoci qua eccoci qua e questa è la zona da visitare ragazzi gli unici alberi messi a cerchio sono questi ragazzi ovviamente quindi la zona è per forza questa ragazzi io come sempre vi saluto ma prima di salutarvi vi ricordo che se vi sono stato d'aiuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video con le sfide o magari in live un saluto da Zio Legit ciao ragazzi ciao ciao